Ora è inutile che ti dividi, stai attenta, guarda qua, questa è la tessera ufficiale di Cantastorie, giusto? Quindi gli anni scorsi erano sedicenti e trottotetera, danno vuole a battente, capito? Dai domandami se serve, se serve, farvi vedere le scorse in prima fila, primo, secondo, stai attenti, se ti ti fermo, guardi che vi 0,45 è tolleranza, sì o no? Tessera e trottotetera 0,90, perché vi è considerato strumento di lavoro, non è che mi bevo come ti che ti hai visto, mi bevo per lavoro, perché sotto qui un parte goti di mio, il paiazzo, 63 anni, è troppo mia, e il problema è quello lì, le scarpe tutte rotte, le colgine, tutto sgregate, sono partito dalla Francia e sono venuto fino a qua, per augurarvi buona fortuna e la perfetta sanità, fatti io le metti una canzone che te la cango, vabbè? Se ora parona mi favo avanti per venire a domandare, c'è il povero trottotetera che domanda la carità, e la guarda nella cardenza che calcosa la troverà, quel povero trottotetera che calcosa la metterà, per ringrazio tutti quanti che nel Francia sono ancora qua, per protegga tutti i santi, adesso che è la dopo finale, vabbè? Se che aveva dato qualcosa, ti mandava la salute e felicità, se la sposa era stacattiva e non aveva da niente, anche quella che è tacunata, Noi, noi!